E' terminato con una vittoria il campionato della Nuro Softball impegnata nell'Italian Softball League. Un successo tenuto a tavolino per la rinuncia alla trasferta in barbagia da parte della Specchia Sol Bussolengo. Un doppio 7-0 che chiude di fatto la stagione delle Verdi Azzurre del manager Clay Rodriguez. Le Nuresi sulla base del calendario del campionato avrebbero dovuto recuperare altre due sfide con il Legnano e contro il Bussolengo, ma dato che sono influenti per la classifica finale e che il quadro dei play-off è già stato definito, queste sfide non verranno disputate, anche perché adesso ci sono gli impegni della Nazionale che sta partecipando all'Europeo nella Repubblica Ceca, mentre il 20 luglio inizierà la sfida a Scudetto che opporrà in semifinale l'Unione Fermana al Sanottinti Bollate e il Ribola Loggia al Des Caserta. Quest'anno niente play-out perché la Federazione ha deciso che non ci saranno retrocessioni. Quanto alle Nuresi inserite nel Girone A, il bilancio del torneo è tutto sommato positivo. La stagione che volge all'epilogo può essere considerata di transizione. La Nuoro Softball ha chiuso la stagione al quarto posto con un bottino di 12 vittorie e 14 sconfitte. Il recupero delle gare non disputate forse avrebbe consentito alle Nuresi di giocarsi la terza posizione con il Legnano, ma comunque non sarebbe cambiata la storia di questo campionato. Forse si poteva fare qualcosa di più, ma per una società come la Nuoro Softball, che deve fare i conti con mille difficoltà a partire da quella economica, costretta con me per ogni trasferta ad attraversare il mare, è già un miracolo esserci. Anche perché la società a tutti gli anni deve fare i salti mortali per riuscire a presentarsi ai blocchi di partenza del massimo campionato femminile di softball. Quando poi arrivano risultati prestigiosi, come la Coppa Italia di due anni fa o il secondo posto, nella Coppa delle Coppe l'anno scorso, tanto meglio. Ma il vero scudetto delle Verde Azzurre, visto il contesto economico in cui operano, è riuscire a descriversi e a terminare il campionato.